Gesù Cristo, nostro Signore, ci ha raccontato una bellissima storia. C'era una volta una signora che aveva dieci dramme. Queste dramme sono come un euro, tutto d'oro. E queste dramme sono la cosa più preziosa da lei. Ed un giorno, un giorno contandole, ne trovò nove e non dieci. Si rimise a ricontarle ed erano proprio nove. E allora disse, ma no, ma no, ne manca una. Dove l'ho messa? Ed era molto, molto triste. Voleva cercarla da ogni parte. Ma disse, io per cercare questa dramma devo fare luce e cercare per tutta la casa. Guardò sotto il letto, in cucina, cercò da per tutto. Dovevano ritornare dieci come erano, ma non riusciva proprio a trovarla, quando all'improvviso la trovò. La trovò sotto la sedia che era nascosta. E allora prese questa dramma, che era felicissima, e andò a bussare a tutti i suoi vicini e disse loro, «Venite, venite tutti, vi do una grandissima notizia». La dramma che era perduta l'ho ritrovata. E tutti le dissero auguri, augurissimi. Secondo voi, secondo voi, Gesù Cristo, nostro Signore, perché ha raccontato questa storia? Quella brava Signora è come la Chiesa, che ha dieci figli, a lei molto, molto cari. Se uno dei suoi figli si perde, può dire, mi bastano i nove che ho? Oppure, oppure che cosa fa? Se uno si perde, si mette a cercarlo. E per cercarlo, deve accendere la luce, che magari, magari si è nascosta in una parte al buio. E la luce, nella Chiesa, è la parola del Vangelo. Sì, è il Vangelo. Il Vangelo ci insegna come riportare tutti coloro che si sono allontanati da nostro Signore Gesù Cristo. Perché loro, loro sono cari a noi. Bisogna cercarli da tutte le parti. Casomai, siano andati lontano. E se li ritroviamo, dobbiamo essere felici, come la Chiesa. E la Chiesa avvisa gli angeli, dicendo, «Ho una buona notizia». Il ragazzo che si è rallontanato, è ritornato. E fa pure la comunione. E quell'uomo, quell'uomo che viveva nel peccato, si è pentito e si è confessato. E gli angeli si rallegrano. E la Santa Vergine Maria si rallegrano. E tutti i santi insieme a loro si rallegrano. E i servitori della Chiesa pure. E tutti quanti si rallegrano per il dramma perduto e ritrovato. Perché chiunque perso è prezioso a Dio. Anche tu sei prezioso.